dal post in cui ho pubblicato i nostri figli sono geneticamente costruiti per prendere tutte le nostre parole metterle in dubbio opporsi vedere cosa capita e sperimentare così il loro effettivo valore mi sono arrivati privatamente un po di commenti del tipo sabri mi sono accorto che i figli tendono ad opporsi i miei ascoltano ma poi fanno il contrario o i miei capiscono perfettamente a volte pure concordano ma poi non eseguono tu scrivi che hanno bisogno di sperimentare l'effettivo valore delle nostre parole come fanno le nostre parole ad essere di valore ad essere potenti questo podcast sarà brevissimo e riassumerò i concetti principali in sette punti magari li andremo ad approfondire in seguito punto per punto ecco un veloce eptalogo non sono certissima che esista questa parola uno devono essere parole pensate e non parole reattive ciò che dico con la pancia in un momento di rabbia spesso è poco realistico è esagerato e poi me lo rimangio se dico una parola e poi la ritratto tolgo potere alle mie parole due devono essere parole logiche se non spegni la tv non mangi il gelato non ha nulla di logico se dico cose del genere il cervello del mio interlocutore si ribella perché non ha alcuna coerenza uno degli aspetti più importanti per una super educazione è utilizzare conseguenze logiche e non punitive tre devono essere parole spiegate attenzione la spiegazione pedagogica consiste nell'utilizzare poche pochissime parole che rispecchino il sentire del mio interlocutore mentre noi genitori spesso utilizziamo prediche infinite che partono sempre dal nostro punto di vista attenzione usare le parole adatte ai nostri figli e al loro modo di percepire il mondo non significa far fare loro ciò che vogliono quattro devono essere parole che rispecchino una giusta sequenza per evitare che nostro figlio alzi una barriera cinque devono essere parole gentili e non aggressive gentili può anche significare ferme inconfutabili rigorose ma mai mai aggressive sei devono essere parole che non sminuiscono mai la dignità del figlio sette infine devono essere parole mantenute mai e poi mai dire una cosa e poi fare il contrario in tal modo ci giochiamo tutta la nostra credibilità dobbiamo dimostrare un'assoluta coerenza fra ciò che diciamo e ciò che facciamo se desiderate che vostro figlio creda a ciò che dite è fondamentale che pensiate bene alle vostre parole in modo che siano logiche chiare rispettose motivanti e sempre 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 lineari con le vostre azioni semplice nella teoria sfidante nella pratica ciò che io trovo strepitoso dei percorsi pedagogici per noi genitori è che li intraprendiamo innanzitutto per i nostri figli ma alla fine si tratta sempre di percorsi che hanno come primo risultato quello di renderci delle persone migliori più consapevoli e più coerenti